Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, le fiamme gialle di Arezzo hanno smantellato un sistema di organizzazioni occulte straniere allestite in Italia per evadere il fisco nel settore delle vacanze di lusso. Operavano in Italia ma avevano sede all'estero, così secondo i finanzieri erano riusciti a non versare le dovute imposte nel nostro paese. A scoprire delle organizzazioni ritenute occulte dagli inquirenti sono stati proprio gli uomini della Guardia di Finanza di Arezzo. Dieci le persone denunciate anche per aver percepito indebitamente, secondo le indagini, l'assegno di disoccupazione e il reddito di cittadinanza. Una modalità operativa, spiegano i finanzieri, che con l'affermarsi della digital economy ha conosciuto una notevole diffusione. Consiste nell'occultare al fisco una struttura economica permanente organizzata, situata fisicamente in Italia ma facente capo ad un soggetto economico estero. Nel primo caso la società individuata aveva infatti sede in un paese estero, offriva tramite una piattaforma online servizi di intermediazione per locazioni turistiche, oltre 2.000 le strutture gestite in buona parte in Toscana. Nel secondo caso l'organizzazione, pur riconducibile ad una società estera, aveva assunto la veste di ramo d'azienda nel nostro paese. Gli inquirenti in questo caso hanno contestato non solo una rilevante evasione fiscale, ma anche violazioni alla normativa sul lavoro. Si parla di centinaia di rapporti di lavoro ritenuti irregolari, tra questi appunto coloro che percepivano anche assegno di disoccupazione e reddito di cittadinanza. Le organizzazioni stanno procedendo a versare allo Stato le somme dovute. Mancano pochi giorni alla suono della prima campanella anche ad Arezzo e dal mondo della scuola arriva un appello di Alessandro Artini, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della Toscana. Quest'anno sul piano dei supplenti le cose sembrano che funzionino un po' meglio, vi sia una tempistica più accelerata. Quello che mi segnalano molti colleghi dirigenti scolastici è che manca il personale ATA. Si avvicina il suono della prima campanella per oltre 40.000 studenti a Arethini. La ripresa delle lezioni in Toscana sarà il 16 settembre. Dopo un'estate di passione per molti insegnanti in attesa di nomina, adesso il problema sembra essere più la mancanza del personale ATA, ovvero il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, oggi sempre più chiamato a competenze digitali. Soprattutto manca un personale ATA che sia qualificato, perché oggi all'interno delle segreterie il lavoro del personale amministrativo è sempre più complesso. Siccome non si accede a questo tipo di ruoli per concorso ma per titoli, in molti casi sono dei collaboratori scolastici quelli che accedono ai ruoli amministrativi, talvolta si hanno persone di buona volontà e preparate, in altri casi invece si hanno persone che abituate al loro lavoro precedente non sono predisposte per il lavoro amministrativo che oggi è sempre più informatizzato. Questo nuoce particolarmente alle segreterie delle scuole. E poi c'è la questione dello smartphone severamente vietato in classe, ma intanto si comincia a prendere confidenza con l'intelligenza artificiale. Ora noi dobbiamo trovare il modo, diciamo così, di vivere senza alcuna incoerenza questo avvicinamento all'intelligenza artificiale, perché da un lato proibiamo i telefonini giustamente, dall'altro invece utilizziamo sempre di più quello che l'informatica ci consente. Ma l'informatica è indubbiamente straordinaria, io questi giorni sto lavorando, devo scrivere alcune cose, mi consulto pressoché quotidianamente con l'intelligenza informatica e questo è un elemento positivo. E' certo che l'intelligenza artificiale non può essere utilizzata per sostituire le tradizionali prove o per fare in modo che i ragazzi presentino dei temi ben fatti, perché questo sarebbe di documento e grave documento per tutti. I cittadini di Rigutino invece si sono riuniti ieri sera in un'assemblea pubblica per fare il punto sui disagi che il paese sta attraversando. Lo scorso aprile ad abbassare le serrande era stato l'unico supermercato della frazione, per tutti un punto di riferimento per la spesa a chilometri zero ed il prossimo 12 ottobre a chiudere invece sarà la filiale di Banca Intesa a San Paolo. I residenti di Rigutino sono così tornati ad interrogarsi sul futuro della frazione. Si sono riuniti in un'assemblea pubblica per fare il punto sui disagi che il paese sta vivendo nella sala del centro di aggregazione sociale che si trova nella ex scuola elementare. Attraversare Rigutino adesso significa passare in rassegna una serie di vuoti hanno dichiarato immobili stato di precarietà numerosi fondi commerciali in attesa di una futura destinazione incerta ma che conoscono già una progressiva svalutazione. Un paese che fino a pochi anni fa poteva vantare tutti i servizi di prima necessità e che adesso sta assistendo al loro progressivo smantellamento accompagnato dall'inevitabile decadenza urbana, economica e sociale. L'intento, concludono, è quello di difendere la qualità della vita in un paese che non vuol ridursi a dormitorio di periferia. All'incontro erano presenti anche due consiglieri comunali Andrea Gallorini del Partito Democratico e Piero Perticai della Lega. Ferie e malattie permessi e così alla pronto soccorso è stato vissuto un venerdì molto difficile a denunciare la situazione il sindacato Nursit. Una situazione così grave al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo non si era mai verificata. Nella giornata di venerdì tra ferie, malattie e permessi il reparto sono mancati ben 17 infermieri su 57 previsti. A denunciarlo è il sindacato Nursit in una nota molto dura dopo settimane dalla proclamazione dello stato di agitazione anche nella ASL Toscana sud-est, quindi per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Una contrazione così importante, scrive il sindacato, ha rischiato di mettere in difficoltà la stessa operatività del reparto e ha comportato il fatto che la programmazione del lavoro infermieristico avverrà giorno per giorno senza il consueto anticipo. Di queste ore una nota anche della funzione pubblica CGL dell'area vasta toscana sud-est che esprime forte preoccupazione sullo stato dei servizi sanitari, sullo stress accumulato dal personale e sulla tenuta complessiva del sistema. In particolare, precisa il sindacato, sono quattro i temi fondamentali. Il piano di assunzioni ordinario e straordinario, il clima interno e l'ottimizzazione dei tempi di vita e lavoro, la sicurezza e i riconoscimenti professionali ed economici. È stato messo tutto nero su bianco in una lettera inviata ai vertici dell'ASL, direttore generale Antonio Durzo e i vari direttori amministrativi e sanitari. La richiesta è quella di intervenire immediatamente con azioni concrete per dare risposta a questi disagi. Accendere i riflettori sui fenomeni di aggressione che stanno subendo i professionisti della sanità. A chiederlo è stato il primo tavolo congiunto tra Fiaso e Federsanità che si è svolta a Bari e al quale ha preso parte anche il direttore generale dell'ASL, la Toscana Sud-Est, Antonio Durzo. È un tema prioritario per il Paese, dobbiamo assolutamente mettere in campo tutte le risorse umane, non solo per contrastare un'escalation che metta a rischio ogni giorno il personale sanitario nell'esercizio delle sue funzioni, sottolinea Durzo. Ogni episodio di violenza è un attacco alla sanità pubblica. Come ASL, la Toscana Sud-Est conclude in accordo con quanto previsto dalle direttive regionali e nazionali, stiamo predisponendo sistemi di videosorveglianza che presto saranno estesi in tutti i 13 pronto soccorso aziendali. E all'ospedale San Donato di Arezzo, invece, nel reparto di pneumologia, arriva la Human Care, Roma. Abbiamo pensato a casa nostra, per cui una stanza che in qualche modo riflettesse quello che ognuno di noi poteva desiderare a via a casa, no? Per cui sicuramente un divano, sicuramente dei colori, sicuramente qualche pianta, libri da leggere, un pensiero da scrivere. Una stanza per poter stare assieme ai propri cari all'interno della quale poter trascorrere anche le notti. Si tratta della Human Care, Roma allestita all'interno del reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. La stanza è arredata con arredi più simili a quelli di un'abitazione che è di un luogo di cura, con divani letto per ospitare i familiari che vogliono trascorrere momenti più difficili con il proprio caro ricoverato in ospedale. È una stanza particolare dedicata a pazienti con patologie respiratorie avanzate, complesse, che ancora richiedono un trattamento medico attivo, ma per le quali è fondamentale la possibilità di assicurare la presenza costante di familiari e cure che possano essere più umanizzate perché molto spesso questo tipo di percorso è quello che poi accompagna la persona che è già lottato per tanto tempo verso il termine di questo tipo di malattia può fare poi la differenza in fasi estremamente veramente delicate e difficili in cui anche noi medici ci troviamo molto in difficoltà quando al di là della terapia massimale che diamo non sappiamo effettivamente cosa poter dare in più. Accanto ai pazienti potranno stare non solo i familiari ma anche gli amici a quattro zampe come è già successo nel 2021 proprio all'interno del reparto del San Donato. Nasce con il Covid perché appunto sappiamo tutti che per i due è stato ma sicuramente poi ce lo siamo promessi che una volta superato quello dovevamo fare qualcosa che il Covid ci aveva insegnato appunto la possibilità per chi lo desiderava di avere un affetto vicino, due, tre e non è detto e non era scontato che potrebbero essere solo umani e questo ha dato sì e abbiamo avuto la possibilità di portare anche gli amici pelosetti qua. Gli arredi sono stati donati dall'associazione Respiro Vita. Sono qui a ringraziare tutte le persone della cittadinanza che ogni anno ci supportano e partecipano ai nostri eventi potendosi così garantire di realizzare tutti questi prosetti. Ancora salute garantire alle persone assistite una visita in telemedicina senza la necessità di spostamento durante il percorso delle cure domiciliari in ambito palliativo. È il nuovo progetto introdotto dall'Asla Toscana Sud-Est già attivo in questa prima fase nel territorio della Valdichiana Aretina. Lo scopo principale è permettere alle persone di ricevere cure di alta qualità assicurando una tempestiva valutazione dei bisogni e l'intervento dei professionisti della rete delle cure palliative. Solidarietà e supporto tra famiglie, progetti di educazione familiare e integrazione tra scuole e servizi con l'obiettivo di contrastare attivamente l'insorgere di situazioni che possano favorire le disuguaglianze sociali. Sono questi gli obiettivi di Pippi, il programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione. Nel Valdarno Aretino coinvolge otto comuni e la zona distretto Valdarno dell'Asla Toscana Sud-Est e al progetto partecipano attivamente con un ruolo di sostegno e supporto per le famiglie destinatari del progetto, coppie con o senza figli o persone singole che si offrono di offrire un aiuto nella vita quotidiana. E adesso voltiamo pagina, passiamo alla politica. Continua infatti in tutta la provincia l'impegno del Partito Democratico per la raccolta di firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. Per informare i cittadini e raccogliere firme, mercoledì 11 settembre alle 21 al Cassero di Monti e San Zavino l'Unione Comunale del PD ha organizzato un incontro con un ospite d'eccezione, si tratta di Rosi Bindi. La serata sarà aperta da un saluto della segretaria comunale Margherita Scarpellini. E adesso parliamo invece di Giostra della Zara Cino e il maestro di campo Gabriele Veneri a tornare sul tema degli scontri dopo la diffusione di alcuni documenti riservati valutando addirittura le dimissioni. Ma Veneri è comunque convinto che la manifestazione stia crescendo. Questa cosa non mi va bene, non mi va bene nei confronti non solo miei ma anche di tutto il gruppo che appunto rappresento, dei miei collaboratori che mettono la faccia su una cosa così delicata. E poi non mi va bene né per i buoni né per i presunti cattivi perché anche coloro che noi abbiamo comunque nominato in questi verbali descrivendo con cura ciò che era avvenuto che siano giudicati dall'opinione pubblica in un giornale prima ancora di essere giudicati dalla magistratura secondo me è una cosa molto grave. È infuriato Gabriele Veneri, maestro di campo, nell'ultima giostra del Saracino all'indomani della rivelazione sulle colonne della Nazione di Arezzo di un atto riservato curato da lui e dai suoi collaboratori inviato alla magistratura della giostra ovvero l'organo che deve decidere per eventuali provvedimenti. L'atto è relativo agli scontri nel corteo per i quali sta indagando anche la Procura della Repubblica e a quanto accaduto in piazza. Svelare quel documento con nomi e cognomi secondo Veneri è stato un fatto gravissimo. Noi come gruppo dei maestri di campo e relativi collaboratori dopo i tre giorni che è terminata la giostra del Saracino dobbiamo fare una relazione dove segnaliamo l'andamento della giostra della sfilata e di tutti i fatti che sono avvenuti. In questa occasione sono stati dei fatti che ci hanno portato a fare dei nomi e a raccontare degli episodi e li abbiamo consegnati alla magistratura nessuno può avere avuto questi documenti. I documenti sono riservati. Dopo aver letto l'articolo ho subito denunciato questa scorrettezza. L'ex giostratore di Porta del Foro, oggi maestro di campo, ha anche pensato seriamente alle dimissioni ma non nasconde il suo amore profondo per una manifestazione che ci dice sta crescendo. Questa giostra la riconosce? Lei è stato un cavaliere di lunga data, è sempre stato vicino alla giostra, oggi maestro di campo. La riconosce? Sì, la riconosco perché è una giosta che è cresciuta molto. A parte alcuni episodi da condannare, da combattere e da risolvere, e già, ripeto, c'è chi ci sta lavorando, però è una giosta che è cresciuta e che comunque alla fine, a parte piccoli episodi, è scorsa molto bene. È stato un bello spettacolo, è stato un bel livello, ma diciamo tutta la settimana della giosta è stata un bel livello perché dalle prove, dalla prova simulata, dalla prova generale, cioè si è visto che la giosta sta crescendo. A livello culturale riesce a dare tanto alla città di Arezzo e soprattutto quello che credo sia il fattore più importante, quello che riesce veramente a mettere insieme una comunità. e le tribune sono state piene tutta la settimana di giovani, di persone anziane, di tutte le età, di turisti, quindi la giosta vive di ottima salute, dobbiamo lavorare per migliorare certe defiance, ma sono tanto culturali, credo. Quindi amare la giosta non vuol dire far vedere i muscoli, amare la giosta vuol dire far vedere la testa, lavorare nelle scuderie con i cavalli, con i giostratori e cercare di essere il più competitivo possibile. La giostra la vincono i quartieri che sono più al pezzo e più precisi, non quelli che hanno più muscoli. Quindi cambiamo la mentalità e cerchiamo di veramente voler bene a questa giosta e di volersi tutto lo spettacolo con la tranquillità che è giusto che sia, perché è uno spettacolo alla fine. In Valdarno ancora un corso di formazione inclusivo. Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, in collaborazione con l'Agenzia Formativa di Confesercenti, organizza una nuova edizione del corso di formazione barman inclusivo, riservato alle persone con disabilità. Dopo il successo degli anni passati, torna dunque l'opportunità per apprendere i segreti del barman. Le lezioni inizieranno martedì 8 ottobre, si svolgeranno al Caffè Paradiso, 9 in tutto le lezioni in programma tra teoria e pratica. Restiamo in Valdarno. A Terra Nuova Bracciolini è stato inaugurato ufficialmente il ponte di Piantravigne. Taglio del nastro per il ponte di Piantravigne nel comune di Terra Nuova Bracciolini, un'opera riqualificata e messa in sicurezza che si è integrata con il passaggio della dodicesima edizione della corsa ciclistica d'epoca alla Marzocchina. Si tratta di un'opera molto importante, la cui inaugurazione avviene proprio nel contesto di una delle manifestazioni più sentite da parte dei ciclisti del Valdarno. Come sappiamo la nostra è una terra di ciclismo che porta con sé tantissima passione. Questo è stato un intervento molto significativo che ha presupposto l'investimento di 505 mila euro di quali quota parte di risorse comunali e una parte consistente derivante dal PNRR, a testimonianza ancora una volta della capacità di intercettare i finanziamenti da enti sovraordinati che ci permettono di aumentare le risposte rispetto a quelle che sono le esigenze e i bisogni del nostro territorio. Nello specifico il grosso dei lavori ha riguardato il rafforzamento dell'impalcato e delle travi del ponte, così come la sostituzione del guardrail, l'illuminazione pubblica e per quanto riguarda invece le pile il restauro proprio dei paramenti delle stesse. È stato un lavoro significativo che sicuramente restituisce funzionalità e sicurezza a quest'opera che tra l'altro si inserisce in un contesto bellissimo perché il borgo è veramente di alto valore e in più da qui si gode della bellezza di un paesaggio che è contraddistinto dalla presenza delle balze. A Castiglionfibocchi invece è tornata la tradizionale rievocazione della battitura. È stato il borgo di Castiglionfibocchi nell'Aretino ad ospitare la rievocazione dell'antica battitura del grano grazie all'impegno e ai mezzi storici del Camae. Oggi abbiamo messo in campo le macchine dall'inizio, dagli albori della meccanizzazione con la macchina a vapore fino al motore a testa calda manca Mario il motore diesel ma c'era anche il tuo motore diesel dietro ecco quindi c'è anche quello quindi c'è tutta e poi la storia della trebbiatura la trebbiatura che è quella che nell'Aia quando si batteva si batteva il grano che doveva servire per campare tutto l'anno veniamo dall'Aia, veniamo dall'Aia, veniamo dalla trebbiatura e con tante altre attività agricole che con le macchine venivano messe in atto perché la macchina è stata quella che ha liberato l'uomo dalla fatica e l'ha liberato non solo dalla fatica ma anche dalla fame, diciamo la verità ecco e questa è la storia della trebbiatura io ringrazio tutti i miei collaboratori il Kamae è sempre un club all'avanguardia perché come dice qui lo stemma nostro motor est vita è l'utilità di scudere il motore è la vita subito dopo la sfilata dei trattori d'epoca fino a piazza delle Fiere dove come nelle migliori tradizioni contadine si è consumata una cena a base di piatti rigorosamente toscani al via la terza edizione di Moonlight Festival con appuntamenti letterari da domani fino a venerdì 13 settembre sulla terrazza di Fraternita di Piazza Grande con sette autori e sei libri l'evento l'Arezzo Moonlight Festival è organizzato da Confesercenti Arezzo assieme alla Feltrinelli ad aprire le presentazioni dei libri sarà Luca Sommi con il volume La più bella perché difendere la Costituzione l'appuntamento dunque è per domani sera 11 settembre e adesso la pagina dello sport tre squadre del tennis tagiotto inseguono la qualificazione per i campionati italiani giovanili sabato 14 e domenica 15 settembre sono in calendario le fasi interregionali di macroaria che vedranno sfidarsi le formazioni emerse dai precedenti campionati regionali per andare a definire le otto migliori che nelle diverse categorie potranno poi contendersi il tricolore nelle finali nazionali nel fine settimana successivo il tennis tagiotto scendrà in campo con l'under 16 maschile l'under 14 maschile e l'under 14 femminile e anche l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo è stato ancora una volta grande protagonista ai campionati italiani di tennis di categoria che si sono svolti dal 2 al 7 settembre a Cattolica conquistando un doppio tricolore Flavia Migliorini in campo femminile ed Emanuele Zoccola in quello maschile che hanno vinto rispettivamente le due tornei di singolare confermandosi così campioni italiani anche nel 2024 dopo aver attroffato già un anno fa questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie grazie